La Santa Sede parteciperà all'Expo di Milano del 2015 con un proprio padiglione sul tema non di solo pane. La scorsa settimana nella suggestiva cornice della Sala Reggia del Palazzo Apostolico è stato firmato il protocollo di partecipazione all'Esposizione Universale che dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 radunerà oltre 140 paesi attorno al tema Nutrire il pianeta, energia per la vita. L'evento, nel solco di una lunga tradizione di partecipazione che risale addirittura all'Expo di Londra del 1851, è stato poi illustrato ai giornalisti dal Cardinale Gianfranco Rabasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e Commissario Generale della Santa Sede per l'Expo di Milano 2015 e da Giuseppe Sala, Commissario Unico di Governo e Amministratore Delegato dell'Expo 2015. In questa esposizione universale che è italiana, che ha un tema come quello dell'alimentazione che è così vicino ai temi della Chiesa, certamente la Santa Sede non poteva mancare. Non è il padiglione della città del Vaticano, è il padiglione della Santa Sede e questa indicazione è significativa perché probabilmente è l'unico Stato in assoluto presente che è tutti gli Stati contemporaneamente, perché la Santa Sede è presente in tutto il pianeta, in tutti gli altri Stati che saranno presenti c'è una presenza della Santa Sede attraverso la sua emanazione naturale che è per esempio la Diocesi, che è la Chiesa locale ed è per questo motivo che il padiglione della Santa Sede deve essere il più ecumenico possibile nel senso etimologico del termine, il termine greco, o ecumene indica il pianeta, indicava il pianeta. Il motto che ispirerà il padiglione della Santa Sede sarà non di solo pane, per evidenziare, ha chiarito il Cardinale Ravasi, soprattutto la dimensione interiore, religiosa e culturale che tocca sia la persona sia le sue relazioni a tutti i livelli, perché il nutrimento interiore è tanto necessario quanto quello che risponde ai bisogni più immediati. Parlare del cibo e delle risorse del pianeta non vuol dire soltanto affrontare una questione fisico-economica, biologica, vuol dire affrontare una esperienza umana radicale. Per questo noi, come Santa Sede che incarna una religione, che è la religione cattolica universale, vogliamo anche però dare rilievo a questo tema della simbolicità del cibo. Su una mensa, l'altare è pur sempre una mensa, c'è il pane, c'è il vino. Ci sono due simboli universali, costanti del cibo umano e sono il segno per il cristianesimo della presenza continua di Cristo. Grazie a tutti.